Ma comprande che il Webco Elmar sta pagando dividendo, lo che mi può pensare, ma comprande che il Webco Elmar sta pagando dividendo nei utili e non sta pensando, non sta pagando dividendo nel governo. Mientras che il Webco Elmar sta pagando certo gasto nel governo, ma si paga, ma si paga dividendo in diversa forma. E' un dato specifico, quanto placa il Webco Elmar sta pagando nel governo, non ti ho guardato qui, ma una cosa sicura, non sta il prezzo crudo, non sta il gasto operazionale normale, sta lo che agisce drasticamente, pa qual vuoi si agisce il prezzo e il corriente, non ti ho visto che non usano le riservano, e' unica maniera che vuoi usano le riservano, sta si, uno, vuoi non sta rincando, vuoi usano le riservano da pagare dividendo, non? Da' unica maniera che vuoi usano le riservano, o vuoi usano le riservano, pa' pagare costo che sta fuori di normal, con l'altra parte che vuoi usano le riservano di operazionale. E non ti ho informazione che il Webco Elmar ha pagato un po' di conferenze di governo di AVP, e aceita lo che è gasto, non è abnormale, e dà lo che è vita diaria di operazion di Webco Elmar, ti ho un Webco Elmar di problema, non ti ho guardato. E' un'altra parte, 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 e' un'altra parte che vuoi usano le riservano, e' un'altra parte, quanto exactamente il Webco Elmar ha pagato le riservano, e quanto le riservano le riservano, e' un'altra parte, direttamente, di forma di dividere, ma paga, indirettamente, di pagare gasolendo il governo, che il governo le riservano, che gli che li recuperano, che hanno preparato perkefostare, per definitivamente, la informazione. Un'altra parte, ci siamo anche a tutti, non stiamo per affrontare informazione, ma sobra, non ci sanno che ci sia un motivo, che ci sta normalmente, quindi, quando ci sono fatto, il Webco Elmar ha pagato, ma sobra, se la situazione è normale, non mi servizio a prezziare corriente però ovviamente la situazione non è normale